Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una donna di 47 anni avvenuta lo scorso weekend a Pesco Pennataro, forse in seguito a una caduta dalle scale. Come da prassi, gli inquirenti della procura della Repubblica di Sernia hanno iscritto il marito della vittima nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato nei confronti del 59enne è di omicidio preterintenzionale. L'uomo, se appreso, era in casa con la donna quando si è verificata la tragedia. L'esame autoptico nel pomeriggio all'ospedale veneziale di Sernia, alla presenza di un consulente di parte dell'indagato, assistito dall'avvocato Pompilio Sciulli. Stando alle prime informazioni raccolte, la donna sabato scorso sarebbe caduta dalle scale in seguito a un malore, battendo la testa. Il marito si è subito attivato, allertando i soccorsi e chiedendo aiuto ad alcuni suoi conoscenti. Sembra che la 47enne fosse cosciente dopo la caduta, ma all'improvviso le sue condizioni si sono aggravate. Quando i medici del 118 sono arrivati a Pesco Pennataro non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A questo punto sono intervenuti carabinieri che hanno aperto un'indagine. L'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale è un atto dovuto a tutela dell'indagato, hanno precisato dalla procura di Sernia. L'autopsia servirà proprio per fare definitivamente chiarezza sulle cause della morte della donna.